Non solo acquisti, non solo regali. Con l'arrivo del periodo delle feste di Natale, particolare attenzione, sempre tenendo conto delle regole anti-Covid, è rivolta la tradizione culinaria. Protagonista indiscusso del 24 dicembre, il pesce. La tradizione prevede un misto scoglio, spigole, orate, scamponi, gamberoni, vongole, cozze, languilla. Diciamo queste sono le cose che vanno di più in questo periodo. E anche il baccalà? Il baccalà soprattutto anche, va moltissimo, sia il baccalà che lo stoccafisso, vanno molto in questo periodo. Qual è la differenza tra i due? La differenza tra baccalà e stoccafisso è che il baccalà viene messo sotto sale, mentre lo stoccafisso viene essiccato. Sta andando molto bene ed è una soddisfazione, perché comunque diciamo che il Natale per noi pesci vendoli è il traguardo di un anno di lavoro e quindi a Natale si vede se uno ha lavorato bene. A Campobasso da sempre il re del Natale, o meglio, della Vigilia, è il baccalà, cucinato in mille modi ma presente in quasi tutte le case dei campobassani. Tutto a base di pesce, baccalà fritto in pastella. Mentre a Natale? E a Natale ancora non ho deciso. Sicuramente a base di carne, come vuole la tradizione. La sera della Vigilia faccio la pasta, gli spaghetti con il pesce, poi faccio anche quelli col tono perché non tutti mangiano dei tipi di pesce. E poi aggiungo il baccalà con i finocchi, con l'uvetta passa, pinoli, noci, un po' di mollica al forno. E poi faccio le frittelle, le verdure, il baccalà nella pasta, poi faccio l'insalata di cavolfiori. Ogni anno aggiungo qualche cosa di diverso a seconda dei gusti della famiglia. E poi i pepatelli, i dolci natalizi. Spazio anche alla carne, soprattutto il 25 dicembre, e ai prodotti locali. Formaggi a batina vanno per la maggiore. I prodotti più venduti in questo periodo sono sicuramente i formaggi stagionati come salumi. Noi produciamo salumi tradizionali e un prodotto che sta andando tantissimo è la batina stagionata. Che è un prodotto storico che risale al 1940. Una salsiccia lunga e schiacciata della tradizione storica di Campobasso. A breve avremo anche la deco, denominazione comune di origine. Il menù tipico di Natale ci sono le lasagne, polpettoni, rollè di carne. Principalmente diciamo che la tradizione proprio di Campobasso è questa. Immancabili anche frutta e verdura che fanno da contorno anche i pranzi e i cenoni più succulenti. La frutta più acquistata sono sempre gli agrumi, ananas e qualche frutta tropicale così per spizzicare un po' a tavola. E le noccioline, roba secca, olive, noci. Mentre per quanto riguarda le verdure utilizzate alla vigilia di Natale e a Natale? Allora maggiormente mangiano spiccatelli e carciofi, peperoni, zucchine.